Sole splendente, aria frizzante, stato della neve in perfette condizioni, ancora sport e tanto divertimento. Sono stati questi gli ingredienti che hanno reso grande per l'ennesima volta la festa dello sport dei grandi salumifici italiani che si è svolta nel fine settimana. Location ideale non potevano che essere le montagne dell'Alta Pusteria, un'occasione per stare tutti assieme dai vertici aziendali ai dipendenti provenienti da varie regioni d'Italia, quasi 1200 i presenti. Sono molto contento di esserci perché ho la possibilità non solo di passare due giornate in un paesaggio splendido e meraviglioso ma anche di conoscere molto più da vicino una realtà imprenditoriale come quella rappresentata, guidata e diretta dal dottor Sefter. Una tradizione che si porta avanti da 40 anni e quindi non ha voluto molare neanche quest'anno come anche due anni fa e si tira avanti una tradizione. Questo vuol dire anche stare sulla strada, sulla propria via, seguire le proprie impronte e non farsi dirigere da niente e da nessuno. Ed è veramente un bel momento perché fa gruppo, fa squadra, fa azienda diciamo. Molto sentita, partecipano tutti con molto affetto ed è veramente una giornata che fa azienda, questo per me è molto molto importante, speriamo di farne ancora per tanti anni. Non solo divertimento in Alta Pusteria, nella giornata di sabato si sono svolte le classiche competizioni sportive, diverse le discipline in programma, slittino, slalom gigante di sci e di snowboard, gare particolarmente sentite dai partecipanti. Molta tensione, molta tensione, puntiamo ad arrivare in fondo, questo è l'obiettivo di massima. L'importante è partecipare. Sì, no però con un occhio al cronometro. Sono agitatissimo perché voglio vincere, almeno tra i modenesi. Ha sempre un po' emozionata, però sono allenata benissimo quindi mi vedrete in cima alla classifica. Io cerco di essere sicuro, non tutta velocità perché non so bene sia. Naturalmente non poteva mancare l'amatissima ciaspolata con destinazione rifugio tra Scarperi e ancora le tradizionali passeggiate a Monte Elmo e a Malga-Klambach. Stare insieme in un gruppo come il gruppo Grandissimi Unifici Italiani è una cosa incredibile, basta vedere la gente che si diverte, la gente che sta insieme, la gente che sta insieme ogni giorno lavorando, ma qui si ritrova giocando, divertendosi con i propri figli, con le proprie mogli, conoscendoci e quindi questo fa sempre più gruppo. Al termine dell'intensa giornata sportiva i migliori sono stati premiati con tanto di coppa. Sul palco il presidente di Grandissimi Unifici Italiani, Franza Senfter, che ha stretto la mano ai migliori. Sul podio anche i piccoli talenti che hanno mostrato tutta la loro classe strappando applausi. Consegnate le medaglie di prelibati premi, la serata si è conclusa con il botto, con i fuochi d'artificio. Grazie.